Il sistema è dotato di un motore retroazionato e di vari sensori che controllano posizione, velocità, resistenza offerta al respiratore e presenza dello stesso ovviamente. Un ingegnere fanese ha progettato in cinque giorni un prototipo automatizzato di respiratore manuale AMBU e lo ha messo a disposizione del servizio sanitario della regione Marche. Andrea Falcucci, questo è il suo nome, marchigiano DOC, residente a Fano, è un ingegnere meccanico laureato alla Politecnica delle Marche e nella vita di tutti i giorni progetta e sviluppa prodotti per riprese cinematografiche. L'ingegno marchigiano quindi quale contributo operativo per affrontare e superare questa difficile situazione emergenziale dovuta alla Covid-19. La sua creazione, che come tutte le cose geniali è estremamente semplice, ha presto conquistato anche la ribalta nazionale in questi giorni in cui l'Italia è chiamata a restare a casa. Andrea, allora, come ti è venuto in mente di mettere a frutto un po' il tuo background, il tuo bagaglio professionale per questa operazione a supporto dei sanitari? Guarda, è stata abbastanza naturale, nel senso che si parlava di questo problema di ventilatori, sappiamo che mancano ventilatori, quindi l'unica cosa che mi è venuta in mente era cercare di assolvere una funzione prettamente meccanica, cioè quella di movimentare un palloncino di respirazione manuale e cercare di farla fare a qualcosa di automatico. La prima idea era stata quella di modificare quello che realmente già abbiamo a catalogo, quindi prendere un carrello per il cinema e modificarlo. L'idea è venuta bene, ha funzionato, a quel punto utilizzare un carrello da un metro per muovere un palloncino di 13 cm mi sembrava un po' esagerato, e quindi è stato fatto un progetto ex novo mettendo dentro tutto quello che serviva, quindi controller, motore, in modo tale che potesse essere tutto molto compatto. Ma come tutti i progettisti, Falcucci ha già pensato ai possibili sviluppi della sua creazione. È stata già predisposta una porta di espansione per inserire un display nel caso fosse utile, e ovviamente sono presenti tutti gli ingressi per tutti i sensori necessari a rendere questo prodotto più ad uso ospedaliero. Il respiratore è di ridotte dimensioni, è alimentato tramite un'autonoma batteria, e tutti i parametri possono essere variati anche tramite app, dal momento che il sistema è in grado di generare una porta di accesso Wi-Fi.